Canale 5, due anni fa. La puntata di 100 vetrine si è appena conclusa con un intenso primo piano di Alex Belli. Parte una sigla. Sono le 14.45 del 10 giugno 2013. Va in onda la prima puntata di Il Segreto. Per i successivi 12 mesi, la novela spagnola va in onda tutti i giorni, prima alle 15, poi col trasloco di amici su Real Time, alle 16, dal lunedì al venerdì. Dal settembre 2013 va in onda anche il sabato. Nel novembre 2013 Il Segreto debutta in prima serata, la domenica. Ci resta fino a marzo 2014, poi si sposta al mercoledì. Contemporaneamente, a dicembre 2013, su Rete4, partono le repliche, tutti i giorni alle 19.40. Nel maggio 2014, per tre mercoledì consecutivi, occupa la seconda serata di Canale 5. Per non farsi mancare nulla, nell'estate del 2014 si sposta pure in fascia pre-serale, tutti i giorni, compreso il sabato. Dal 7 settembre torna in onda in prima serata, la domenica. La settimana dopo, però, va in onda di sabato, sempre in prime time. Poi, però, per due mesi si sposta di venerdì, tranne il 6 novembre che va in onda di giovedì. Nel 2015 va in onda in prima serata per due sere la settimana, prima la domenica e il mercoledì, poi la domenica e il giovedì. Nella settimana che va dall'8 al 13 aprile 2015, il segreto va in onda in prima serata, mercoledì, giovedì, domenica e lunedì. L'unico giorno in cui non è mai andato in onda in prima serata è il martedì, perché è un segreto.